Prima incontro per il tavolo regionale di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e al caporalato che si è svolto presso l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della regione siciliana. Il gruppo di lavoro del tavolo insediato rientra all'interno dell'attività del programma Supreme Italia finanziato dai fondi AMIF, Emergency Funds, della Commissione Europea, Direzione Generale Immigration and Home Affairs con il partenariato guidato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale Immigrazione quale capofila insieme al coordinatore della regione Puglia e alle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e a Nuova Consorzio Nazionale per l'Innovazione Sociale. All'incontro erano presenti l'assessore Antonio Scavone che preside il tavolo, Tatiana Esposito, Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Michela Bongiorno, dirigente dell'Ufficio Speciale Immigrazione, Raimondo Locito, tenente colonnello dei Carabinieri, i rappresentanti dei Dipartimenti Regionali della Famiglia e delle politiche sociali e del lavoro, di Fai CISL, Flai CGL, INAIL, ANPAL Servizi e i rappresentanti delle prefetture di Agrigento, Catania e Ragusa. È stata l'occasione per presentare l'attività dell'assessorato in tema di contrasto al caporalato e quelle avviate dall'Ufficio Speciale Immigrazione nell'ambito di Supreme e più Supreme e ancora per discutere di una politica che punta l'attenzione alla mobilità dei lavoratori, gli interventi di mediazione culturale e di salute durante la pandemia, i sette progetti di agricoltura sociale innovativa attivi sul territorio o ancora le azioni per il superamento degli insediamenti informali, si legge nel comunicato, che hanno consentito la creazione di alloggi finalizzati a supportare l'integrazione con il territorio. L'assessore alle politiche sociali ha inoltre sottolineato l'importanza di una strategia di attenzione verso il mondo dell'immigrazione, si legge ancora, che coinvolge centri per l'impiego e si avvalga del potenziamento dei servizi di incontro tra domanda e offerta e dell'attività di formazione degli ispettori del lavoro. Si pensa intanto adesso alle linee guida sul tema che saranno elaborate dal tavolo. La redazione delle linee guida sul piano nazionale riguarda la protezione e l'assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo, afferma l'assessore regionale Scavone, e la Regione ha il dovere di promuovere anche con il coinvolgimento del terzo settore e le strutture pubbliche lo sviluppo delle azioni anticaporalato. Sono molto felice dell'istituzione del tavolo, la cui composizione articolata restituisce la complessità e gli obiettivi del piano triennale, dichiara Tatiana Esposito, Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il tavolo costituisce un presidio territoriale e un modello di governance.